Pietro, la grande accusa che si fa alla Lombardia è proprio questa, il livello territoriale. Si dice che non ha funzionato la sanità territoriale. Tutto è arrivato negli ospedali, gli ospedali è tra i grandi focolai e da quello è partito tutto. Ora, io non ho capito bene cosa sta accadendo, perché ho capito che Fontana al 4 di maggio vuole riaprire, ha indicato la via Lombarda alla libertà. Dall'altra parte però c'è Sala che oggi è un'intervista durissima, dice Salvini parla e Fontana esegue. Ci sono tanti aspetti, innanzitutto dobbiamo dire che nella Germania i lender hanno più autonomia delle regioni italiane nel decidere aperture e chiusure. Ci sono differenze tra lender e lender e se noi dobbiamo copiare il modello tedesco potremmo anche per esempio copiarlo in questo. Secondariamente, riguardo a Sala, Fontana, è chiaro che è iniziata la campagna elettorale su Milano, è iniziata con un anno d'anticipo e qui ci sarà il partito dell'aperitivo, il partito delle aziende e si menano fendenti l'un con l'altro. Io non starei tanto a inseguire la dichiarazione dell'uno o dell'altro. In Lombardia tutti hanno fatto degli errori, era la situazione più drammatica, però permettimi una battuta, se lavorano le procure in Lombardia perché non possono lavorare le aziende? Se lavoro io, io credo che il mio lavoro non sia per l'Italia più fondamentale di quello di un'impresa. Grazie. Grazie.